I miei film vecchi, i anni cinquattro, tipo... Federico... Sei pronto? Fa la danza, adesso! Non è bellissimo, no? Vediamo come si vede... Pure bene siete, compare! Siete pure bene! Però sto parlo andiamo a levare, proprio! Andiamo a levare! Andiamo a sto parlo! Figo! Chi vuole? Scusa ci vuole, non ho visto mai! Ce ne vuole una più forte, una più prodente! L'hai visto? Le Raudi! Le cosa le faccio? No, no! Raudi con la miccia! Queste vanno bene! Non ci deve essere che fare! Deve spara con questi altri! Ora ci sistemiamo per bene la situazione! Allora, qual'è il problema? Devo una cosa che schizia! Devo acqua! Non devo sparare insieme! Non devo sparare in tre una volta! Non devo sparare in tre una volta! Non ci fa niente! Non ci fa niente! Non ci fa niente! Canto sono mitragliate! E' un colpo di pistola! Dico quello la da Samir! Si! Ma come è avvenuta la situazione? Non si capisce! Aspetta! Di qualcosa! Te la faremo! Serietino! E brucia un sacco! Te ne vedi! Che stai a dire? Minchia come si apre le cose! Vai! Chiudi! No! Parti indietro! Va! Parti avanti! Più! Dei cacchi! Lì è perfetto! Ammiglio a sballare! Fa la botti con la maniera e forza! Che fico sto metro? E' un metro! Ah! Si! Me lo sto provando! Me lo sto provando gli abiti! Scuole! Scuole! Di modo! Se vediamo è che noi abbiamo un quello di plastica come la riga per le curve! C'è come quello costa 20 euro! Ma sai che fai? Bichissimo! Per il mio pantalone! Che è questo coso? Un coso per le scuole! Che è? Me lo ho con la madre! Qual è la vista? Bella! Un gran cervello! Allora! Per il mio pantalone sai che fai? Stringilo poco poco! Che distori? Devo stringere? Pochissimo! Pochissimo! Ma poco! C'è la cintura! Questo è il tuo! Questo qua è il mio! Questo è il tuo! Ok! Seggi da solo! C'è la cintura Melo! Ma c'è la cintura! C'è la cintura! Perché non la mettiamo nella giacca! La mettiamo sul pantalone e la cintura! Ma lei lo saprà! C'è la cintura! C'è la cintura! E anche se non lo saprà! C'è la cintura! C'è la cintura! E questo è il primo modello! Infatti non c'è la cameriera di me! Un pezzo di uno o un pezzo di un altro? Un pezzo di uno e un pezzo di merda! Che lo incuattro in questo momento! Questa è la macchina da cucina della nostra stilista! Ti è già più! Però col cappello levato! Vabbè! Ci vediamo presto o no! Va bene! Qualunque altra cosa devi comprare! No comunque viene montato! Quindi tutte le cose imbarazzanti le togliamo tranquilla! Lo sai! Questo è l'angolo! Non era quelle imbarazzanti le lasciate! Le lasciamo! Vabbè le sue! Le due le lasciamo! Fai un saluto a tutti quelli che vedranno questo video! Ciao! Ciao!